Antonio Carega, un nome e una garanzia, ciao Antonio! Ciao, come stai? Questa posto tu? Benissimo qua, poi sul stadio, addirittura ho fatto anche un gol dopo tanto tempo, ma niente, è una bellissima festa, sono contento di essere qui, questa festa per bambini, per me mi orgoglia abbastanza. Hai segnato? Eh, con 56 anni ho segnato, alla grande propria. Come lo vedi questo Napoli? Ah, è andato abbastanza bene, purtroppo siamo così, siamo provati ma non siamo riusciti a vincere un'altra volta, ma comunque ha fatto una bella prestazione questo anno, mi auguro che il prossimo anno, il 2018, possa vincere un scudetto. Quanti anni che non calcavi l'erba del San Paolo? Eh, va a zappare il campo ha tanto tempo, però sono stato a Napoli e a Madria, hanno fatto una bellissima festa per me qua, perché è stata anche una sorpresa, no? Perché dovevo stare a Milano in studio e ho voluto venire qua per essere presente in questa partita, davvero ha fatto una bellissima festa per me.